Si prospetta un fine settimana all'insegna della musica e del divertimento per la chiusura della piazza del Natale. Si partirà il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, con l'arrivo della Befana in piazza Garibaldi e poi sabato 7 gennaio a partire dalle ore 18 con il divertimento dei due comici di Zelig, Dado e Carlo Amleto Giammusso. Dado, pseudonimo di Gabriele Pellegrini, è un cabarettista, comico e cantante italiano da anni ormai sulla scena nazionale, mentre Carlo Amleto Giammusso gioca in casa e uno dei nuovi comici di Zelig che porta in scena i suoi sketch con TG Zero. Tantissime risate che saranno accompagnate dalla musica dell'artista siciliano Alessio Bondi. Abbiamo ascoltato il vice sindaco, grazie a Giammusso e l'assessore Fabio Caracausi, che hanno tratto un bilancio su questo mese della piazza del Natale. I nostri obiettivi sono stati raggiungere, portare le famiglie e i bambini in piazza e tutti i fine settimana la piazza è stata animata da bambini, passeggini e mamme e genitori, ma anche nonni. Abbiamo avuto un mese intero di animazione. Giorno 6 i bimbi arriva alla Befana, ma giorno 7 ci sarà anche un bel concerto alle 18 in piazza. Perché proprio alle 18? Per animare sempre di più il nostro centro storico, fare lavorare tutte le attività commerciali, i bar, e per dire sempre che siamo sempre più orgogliosi della nostra città. Quindi il bilancio è assolutamente positivo, grazie a bimbi e grazie a tutte le famiglie che hanno passeggiato per le vie del nostro centro storico. Invitiamo chiaramente tutti quanti a partecipare, sarà sicuramente una festa che attira naturalmente non solo i bambini, ma anche i grandi. E quindi insomma un'ennesima attività per promuovere quelli che sono gli eventi poi natalizi.